Sette veicoli e quattro clienti che aspettavano di ritirare le loro macchine. E' solo una delle scene che si sono parate davanti agli agenti della stradale trevigiana a caccia di officine abusive. Già perché complice la crisi, meccanici che lavorano nel garage di casa e aggiustano in nero, quindi a prezzi più bassi, sembrano essere notevolmente aumentati. In questo caso stiamo parlando di abusivismi totali, cioè questi rimano una carta per fare niente, cioè come se io scelgo giù qua sotto in garage, chiamo i miei amici e dicono venite a riparare la macchina da me e ve la riparo io. Funziona così. Dall'inizio dell'anno sono 19, finora le officine abusive scoperte un po' in tutta la marca, con qualche particolarità come all'interno della zona industriale di Villorba, dove oltre a riparare si provvedeva a ripulire auto rubate e poi smontate. Durante un controllo per dei movimenti un po' sospetti di auto di lusso abbiamo trovato un capannone, nei garage di un capannone, una vera e propria carrozzeria abusiva, dove c'era un'auto che stavano assemblando, un'auto riciclata proveniente da reato, che era stata fatta sparire da un fallimento in provincia di Napoli, e la stavano saldando insieme a un altro pezzo di auto, si tratta di due Porsche, per poi essere chiaramente rivendute al mercato, occultando nell'illecita provenienza. In questo caso ovviamente tutta l'attività era completamente illecita, cioè lì non poteva esserci assolutamente niente ed è stata, oltre a essere denunciate le persone coinvolte, è stata anche contestata l'attività abusiva. Attività quantomeno contagiosa, visto che poco più in là il copione si ripeteva. Nelle vicinanze durante il primo controllo si notava che c'era un altro movimento di macchine che continuava e quindi gli operatori sono andati a verificare e hanno trovato un altro esercizio commerciale abusivo, un'officina in questo caso, con tanto di clienti che aspettavano il ritiro delle macchine.